Dylan Dog numero 405, l'Uccisore e Roberto Recchioni ci plana nel culo. Non sai scrivere, perché non fai Dylan Dog com'era una volta? Vogliamo il Dylan Dog che abbiamo sempre amato? Buon salve e bentornati su No Mamamazzo, andiamo subito al dunque. Oggi parliamo del numero 405 di Dylan Dog, dal titolo L'Uccisore. Vi dico già che sarà una recensione totalmente spoiler, quindi se non volete spoiler spegnete il video e andatemene a fare... Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione di questa mini saga partita con il numero 401, l'Alba Nera, e che si concluderà con il numero 406, di cui già sappiamo qualcosa perché l'abbiamo visto nella seconda di copertina, l'ultima risata con Graucio che ride e torna. Quindi tutti quelli che si lamentavano, non c'è Graucio, hanno tolto Graucio, Graucio lo... Andatevene a f***o, tu a f***o, tutti andatevene a f***o. Recchioni ci aveva chiesto un salto della fede in questi primi numeri. Io gli ho dato fede e sto per essere ripagato. Questo numero, il 405, è molto simile, me lo vado a pigliare, a questo. È molto simile al numero 403, la lama, la luna e l'orco. Perché è simile? Perché come nel 403 prende liberamente ispirazione dalla sua controparte senza il 400 davanti, ovvero prende liberamente ispirazione dal numero 5, gli uccisori, così come questo prendeva liberamente ispirazione dal numero 2 e 3 di Dylan Dogg, ma chiude in fretta la trama da cui prende spunto nelle prime pagine per poi andare ad aprire un discorso più ampio. Il discorso più ampio, qui c'era anche di mezzo l'orco, ma il discorso più ampio sia qui che qui è quello del serial killer della risata. Io lo chiamo così per darci un'idea. Che è questo serial killer che uccide le proprie vittime in modo che siano delle barzellette. Subito già dal 403 avevo pensato che potesse essere appunto Graucio che stesse commettendo una serie di delitti di questo tipo. E pensavo che la fine di questa miniserie si sarebbe conclusa proprio con l'incontro di Dylan Dogg e Graucio Marx, che magari si sarebbe rivelato il villain di questa minisaga. E pare quasi che abbiano conferma le mie lucubrazioni, anche se molti di voi hanno suggerito potrebbe essere anche una cosa... Alcuni hanno detto troppo scontata. Oddio, se è scontata una cosa del genere, ragazzi. Altri hanno detto, beh, non è possibile che Graucio diventi il villain. Può darsi appunto, proprio per come si è dipanata la trama, che Graucio non sia il serial killer dal nome Graucio, ma sia un altro Graucio che può aiutarli a trovare il serial killer. Quindi una delle mie due ipotesi, o di qua o di là, comunque avevo ragione. Ma al di là di questo, che comunque è importantissimo che io abbia ragione, mi piace molto il fatto che si sia solo preso spunto dal numero 5 per poi andare su una direzione molto diversa. Anche se devo dire, il numero 5 che poi ho letto successivamente al numero 405, ho leggiucchiato, è credo tra i primi cinque numeri di Dylan Dogg il migliore, quello che poi va a fondare le basi di quello che sarebbe stato poi il Dylan Dogg classico. Mi è dispiaciuto molto proprio per questo che abbiano tolto dalle scene un personaggio che a me comunque non dispiaceva, anzi, lo consideravo parte della gang di Dylan Dogg. E pensavo che anche Recchioni lo considerasse parte della gang di Dylan Dogg, perché nel 399, insieme alla gang, stava aiutando Dylan a sconfiggere l'orda di vampiri. Il 399 mi ha fatto schifo! Mi riferisco a Lord Wells, Lord Wells che in questo numero fa la parte del cattivo. In questo Lord Wells Recchioni ci ha voluto mettere tutto quello che di negativo ci può essere in un Lord Wells, ovvero l'attaccamento alle vecchie tradizioni, a discapito del nuovo, l'attaccamento a quello che c'era anche di negativo nel vecchio, come per l'appunto la schiavitù, la supremazia bianca. Sembra quasi che questo numero parli a quello che sta succedendo adesso nel mondo, cioè al fatto che ci sono ancora persone che ragionano come questo Lord Wells, cioè che ritengano giusto che delle persone privilegiate possano avere una supremazia su delle persone meno privilegiate. I ricchi verso i poveri, la razza bianca verso la razza nera, tutto quello di negativo che il Lord Wells classico comunque non aveva, perché comunque si adattava un attimino ai tempi anche negli anni 80, è sempre stato uno dei buoni, nonostante fosse di altri tempi, prendeva un po' il buono di quello che c'era degli altri tempi. Questo Lord Wells della minisaga 666 invece rappresenta proprio tutto quello che c'è di negativo nelle persone che sotto la scusa del e ma questa è la tradizione, e ma si è sempre fatto così, e ma così, e ma cosà, giustificano il proprio razzismo, la propria rabbia. Lo dice proprio Dylan Dogg nelle prime pagine. Qual è il movente di questo Lord Wells? Essere un vecchio uomo bianco arrabbiato. Purtroppo a volte il movente di tanto odio è questo, essere vecchi, non per forza all'anagrafe, ma vecchi qua dentro, e essere arrabbiati per motivi stupidissimi. Ne abbiamo un fulgido esempio anche tra i vari analfabeti funzionali che infestano i profili social di Recchioni per rompergli le palle, anche a livello personale, perché il Dylan Dogg come è in questo momento a loro non piace. E non mi riferisco al fatto che non gli piace la storia, ma mi riferisco proprio al fatto che rompano le scatole senza dare critiche costruttive al personaggio, semplicemente sputano merda addosso alla persona di Roberto Recchioni, che può essere simpatica, può essere antipatica, ma francamente, ma ci avete mai mangiato assieme da potervi permettere di rivolgersi così a uno sconosciuto? Recchioni, hai rovinato Dylan Dogg, non capisci niente! Ma se io fossi lui che... e uno mi scrivesse così, ma io non sarei così gongolante da limitarvi a prendervi per il culo scrivendo il Dylan che hai sempre amato per farvi il trollone, ma io vi verrei a prendere a casa brutti rimbambiti. Tutto per spillare soldi a noi lettori, ma io non lo compro più adesso Dylan Dogg! Comunque, nonostante mi piaccia che Recchioni abbia voluto dare questo palese messaggio, palese se non siete degli analfabeti funzionali, se no vabbè ve lo spiegheremo, mi piace che Recchioni abbia voluto dare questo messaggio che persone come questo Lord Wells non siano tollerate nella società odierna, non siano più concepite e quindi l'ha eliminato. Mi dispiace però che abbia sfruttato il personaggio di... scusate, di Lord Wells per questo suo scopo, perché è un personaggio che magari avrebbe portato ancora tanto in futuro. Ma non è detta l'ultima parola perché, come abbiamo visto nel corso del fumetto, Dylan Dogg pare essere ancora collegato all'altra realtà, alla realtà del vecchio Dylan. Addirittura qui si sogna il vecchio Dylan, il Dylan sbarbato, il Dylan che ha per assistente graucio, che lo accoglie e lo fa parlare. Quindi questo Dylan 666 ha un confronto con il Dylan classico, come se fossero delle realtà parallele, ma nel 400 ce l'avevano detto. Ci sono tante versioni di Dylan e ve l'ho detto anch'io. C'è il Dylan Dogg del Colorfest, c'è il Dylan Dogg dell'Old Boy, c'è il Dylan Dogg della serie regolare, adesso c'è il Dylan Dogg 666, nonché il Dylan Dogg del Pianeta dei Morti Viventi. Quindi solo queste sono sei versioni... No, scusate, ho un dito in meno. Sono cinque versioni di Dylan Dogg e ce ne sono altre con tutti i vari speciali che hanno fatto. Quindi Dylan ha comunque... Questo Dylan 666 si sta ricordando che ha avuto come assistente graucio, si sta ricordando, si sta collegando al Dylan classico. Quindi probabilmente sono versioni di realtà parallele, probabilmente è il se stesso di una realtà precedente. Lo scopriremo, non credo nemmeno, lo scopriremo nel numero 406, magari lo scopriremo molto più avanti negli altri numeri. però solo il fatto che che ci sia questo incontro dimostra che ha un senso che questa serie 666 sia nella serie regolare, perché probabilmente ci si andrà ad amalgamare nella serie regolare, nella serie classica, e non avrebbe avuto senso metterla in un old boy o in uno speciale. Capito? Ridateci il nostro Dylan Dog. Un'altra cosa che mi ha fatto molto effetto di questo numero è il fatto che Dylan Dog spari, a bruciapelo a questo Lord Wells. È vero, anche nel numero 5 gli uccisori aveva, diciamo, provocato per sua mano la morte dei villain, ma non si era sporcato le mani direttamente, aveva, diciamo, usato la loro stessa moneta per eliminarli, sapendo che sarebbero stati uccisi da questo, ma non gli aveva uccisi lui di sua mano. Poi, per carità, Dylan spara. Dylan ha sparato in passato, ha sparato dai non morti, ha sparato anche a dei vivi, ma per difendersi. Qua invece proprio ha sparato a sangue freddo ed è una cosa che non mi è piaciuta molto di Dylan Dog. Va bene che vogliano dare a questo personaggio il non essere senza macchia, ma così è un po' troppo. È vero che aver ucciso qualcuno adesso può essere un motivo per non farlo mai più in futuro, per non essere mai più come in questo numero. Però comunque è un confine che avrei preferito non avesse mai superato. Infatti ho fine all'ultimo, speravo che introducessero un flashback in cui lui in realtà non spara, quantomeno non spara per uccidere a Lord Wells, magari lo ferisce in qualche modo, invece lo ha proprio ucciso. Block, suo patrigno, lo sa e non ha fatto nulla per arrestarlo, non ha fatto nulla per condannarlo, non ha fatto nulla. Non dico che lo approva, perché poi gli spiega subito della differenza tra uccidere un uomo come Lord Wells e uccidere un uomo come il serial killer che si appresteranno ad acciuffare. Ciò nonostante anche Block, che dovrebbe essere stato il grillo parlante della situazione, pare quasi giustificare questa azione. Sicuramente grandissimi fan di questo nuovo corso, e sto parlando in modo sarcastico, si lamenteranno di questa scena fantastica tratta dal film A qualcuno piace caldo dove c'era Marilyn Monroe come protagonista e c'erano due attori maschi che interpretavano delle donne, delle drag queen, diciamo, si travestivano da donna per nascondersi, per fuggire. Qui c'è la sosia di Marilyn Monroe che in realtà è una trans a quanto pare o una drag queen, non è chiarito perché è solo al fine della battuta, che dice in un orecchio a Dylan Dogg dopo averle dato il numero di telefono comunque devi sapere che io sono un uomo e Dylan Dogg dice nessuno è perfetto, guarda, vorrei essere una mosca in casa di tutte quelle persone che si indigneranno leggendo questa citazione senza nemmeno capirla. In questo numero Dylan Dogg vuole andare a travestiti. Parlando invece di altre donne oltre alla squinza di turno che si fa a Dylan Dogg con cui condivido particolarmente i gusti sono anche stato felice da maschietto di vedere per la prima volta Rania senza veli e senza velo quindi vediamo finalmente Rania come mamma l'ha fatta. Scopriamo anche che in questa versione è proprio Rania a regalare la penna d'oca e il calamaio a Dylan Dogg che sarà uno dei suoi tantissimi simboli insieme al clarinetto insieme al veliero insieme all'outfit insieme all'assistente che lo accompagneranno in questi altrettanti anni di storia editoriale. Non è più il mio Dylan Dogg! Per i fan del Dylan Dogg sbarbato lo vediamo sbarbato anche in un flashback in cui appunto è con Rania a dimostrazione del fatto che Dylan Dogg iconograficamente se non beve non ha la barba Dylan Dogg ha la barba fin tanto che beve adesso ha già iniziato diciamo a disintossicarsi dal numero scorso ma tiene ancora la barba probabilmente ci sarà qualcosa di definitivo che sancirà il passaggio al Dylan Dogg come lo abbiamo sempre conosciuto nel 406 o nel 407 io come già accennato nei numeri scorsi presumo che sia la morte di Gnaghi potrebbe essere la morte di Gnaghi per mano proprio del serial killer soffermiamoci un attimo su questo graucio serial killer ora per quanto sia affascinante l'idea che il personaggio di graucio venga introdotto in questo modo ammesso e non concesso che sia il nostro graucio il serial killer e non un terzo graucio cattivo che verrà sconfitto da Dylan e dal futuro nostro graucio ci siamo ammesso e non concesso che sia il nostro graucio spero comunque che non resti cattivo davvero per sempre perché esiste già un cattivo che fa battute e crimini orrendi che è la nemesi di un protagonista molto più serioso che si occupa di cose oscure mi sto riferendo a Joker e Batman dal momento che la Bonelli sta avendo anche una diciamo sta creando una una miniserie tante miniserie tra gli eroi Bonelli e gli eroi della DC Comics in questo caso sta creando una miniserie tra Dylan Dog e Batman non vorrei che però la Bonelli si mettesse anche a copiare dal personaggio di Batman ora io non voglio che Dylan Dog abbia un Joker perché di Joker ce n'è solo uno e basta e avanza cioè è un fantastico personaggio ma avere un cattivo clown un cattivo comico nel panorama fumettistico oltre a Joker sarebbe troppo ridondante ci sta che ci sia un graucio cattivo ci sta che possa essere anche il nostro graucio che entra nell'universo di Dylan Dog da cattivo ma non vorrei mai che ci resti come cattivo per quanto io non ami assolutamente Xabaraz come villain principale di Dylan Dog non vorrei comunque che ci sia graucio carina l'idea ma sarebbe troppo una versione italiana del Joker e questo non mi piacerebbe come può un cattivo come graucio che ha fatto quello che ha fatto nel numero 403 diventare buono si può dare una spiegazione davvero in questo caso con una possessione demoniaca piuttosto che in qualche modo il fatto che non fosse davvero se stesso però è molto più probabile che questo graucio cattivo e maledetto non sia il nostro graucio che noi tanto amiamo ma il graucio che noi tanto amiamo verrà salvato da Dylan Dog proprio perché già in questo numero scopriamo che questo graucio serial killer non vuole concorrenza non vuole altri sosia quindi è molto probabile che il nostro graucio sarà una delle prossime vittime del graucio cattivo sempre tornando a livello commerciale al discorso dei diritti di copyright diritti di immagine sul personaggio di graucio marx che non può apparire nella serie tv di Dylan Dog per esempio creare un graucio villain non risolve comunque il problema quindi non credo sia stato nemmeno fatto per questo questo graucio serial killer è stato fatto puramente per dare un colpo di scena a questa miniserie e introdurre il personaggio di graucio in un modo totalmente nuovo dato che vi ho tediato abbastanza con la sceneggiatura e la storia di questo numero e di questa miniserie in generale volevo spendere due paroline sui disegni sulla regia diciamo di questo numero ci sono dei tratti fantastici delle tavole fantastiche quando Dylan Dog si mette a scrivere con la penna d'oca sull'inchiostro vediamo delle macchie d'inchiostro che si trasformano in graucio graucio che si mette a parlare a dialogare con Dylan Dylan che entra anche lui in questo mondo d'inchiostro e che viene accusato da questo graucio che poi in realtà non è un vero personaggio ma è la sua coscienza che lo chiama assassino proprio perché ha ucciso questo Lord Wells del chiamiamolo universo 666 vedete queste tavole sono davvero fantastiche ci sono anche delle tavole di Roy come già avevo annunciato nel finale e ci sono delle tavole invece sempre pochissimo c'è credo una sola tavola di Nafsed che è la tecnica che si è usata già nel numero scorso con Anna Per Sempre hai rovinato il personaggio di Anna Never in Anna Per Sempre c'è un Nafsed di 30 pagine su 90 che è tantissimo ed è stata una scelta molto coraggiosa qua invece ci sono semplicemente scusate due tavole di Nafsed ovvero di fumetto che narra le vicende senza bisogno di Balloon c'è semplicemente un'onomatopea dove fondamentalmente vediamo Dylan che legge quello che ha preso in biblioteca mentre Gnaghi si fa i fatti suoi pulisce la casa poi a un certo punto si mette a giocare a dei videogiochi molto rumorosi Dylan Dog si lamenta e Gnaghi si arrabbia se ne va spegnendo la tv basta carino dopo le 30 pagine del numero scorso usare ancora il Nafsed così giusto per due pagine per quanto sia una scena molto divertente sa un po' di già visto sa un po' di anche di riempitivo in questo caso mi ha dato un po' questa sensazione nonostante molto carino fatemi sapere qui sotto al video nei commenti cosa ne pensate di questo numero cosa ne pensate di questa saga 666 qual è il vostro numero preferito di questa saga qual è il numero che vi è piaciuto di meno di questa saga tanto questo è un video clickbait quindi sono sicuro che comunque mi riempirete di insulti qui sotto perché qualcuno si sarà sentito preso in causa anche se io non mi sto riferendo a nessuno in particolare non mi sto riferendo alle persone che criticano in modo costruttivo orecchioni ma mi sto riferendo alle persone che gli scassano continuamente la minchia a livello personale sotto ogni suo profilo social io come sempre vi invito ad iscrivervi a questo canale a mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri di guardare tutti gli altri video della playlist Dylan Dog di condividere il video con tutte le persone che conoscete che amano Dylan Dog e che odiano Roberto orecchioni così odiano anche me adesso di commentare qui sotto e di attivare la campanella delle notifiche il prossimo video sarà sempre su Dylan Dog sarà sempre in questo mese sarà il 13 giugno e parleremo di Dylan Dog Old Boy certo c'è questo Dylan Dog con la barba nella serie regolare e ora ci pigli pure per il culo mettendo nell'old boy Dylan Dog che abbiamo sempre amato ah ci prendi anche in giro adesso ma come ti permetti ah noi che ti scriviamo ogni giorno per romperti le palle come ci permetti di prenderci in giro recchioni ti uccisoro io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci ciao